Musica Terza edizione del Premio Internazionale della Pace, quanto è importante per un comune come Monteleone? Beh, è importante perché ci consente di mettere sotto le fritture i piccoli comuni. E' importante perché dà visibilità ad un territorio ed è importante perché si parla di temi appunto riferiti alla pace e alla non violenza. Credo di grossa attualità, considerato tutti la guerra che ci si mette nel mondo, quindi andare controcorrente. E i piccoli comuni come il nostro ha questa possibilità adesso appunto di rimarcare alcuni temi, temi importantissimi. E lo vogliamo fare con un personaggio di prestigio che appunto è la figlia di Martin Luther King, Albert Hinkink. Albert Hinkink verrà sabato 10 marzo a Monteleone e invece dal 6 al 10 marzo Monteleone sarà oggetto di un Prestour. Il progetto giudicato il migliore diciamo tra quelli al bando della Regione Puglia. Sì, abbiamo partecipato appunto a questo bando con l'agenzia Prestour che ci ha preparato il progetto e nei comuni limitrofi a Monteleone, quindi Anzano, Hd e Sant'Agata, che tra l'altro fanno parte del circolo didattico, quindi dell'istituto comprensivo, appunto attraverso questa agenzia, faremo in maniera tale da far vedere il nostro territorio, come è cresciuto e quindi diciamo da questo punto di vista ci sarà di molto aiuto, proprio perché verranno messi diciamo sotto riflettori anche altri comuni che fanno parte di Monti Dauni, perché noi da soli non andremo da nessuna parte. Quindi questa possibilità che noi avremo attraverso questo progetto, attraverso questa agenzia, appunto la Prestour, ci darà questa possibilità ulteriore di far conoscere ancora meglio il nostro territorio. Presidente, un grande evento e una grande personalità. Bernice King, figlia di Martin Luther King, qui a Monteleone di Puglia, in provincia di Foggia. Sì, credo che per il comune di Monteleone, ma per l'intera Capitanata, sia un evento di grande rilevanza, proprio perché si riconosce un premio alla figlia di Martin Luther King, una grande figura della storia dell'umanità. Quindi un momento sicuramente per riflettere su alcuni principi e su alcuni temi che, ahimè, al 2018 sono ancora di grande attualità, come il rispetto della persona umana e il rispetto per la donna, per la dignità della donna. Purtroppo l'attualità ci consegna spesso episodi davvero incresciosi. Bisogna far crescere questa cultura, soprattutto tra le giovani generazioni. I ragazzi devono essere nella loro formazione intrisi di questi principi, che poi sono principi che trovano derivazione dalla nostra carta costituzionale e sono di fondamento per la nostra Repubblica Democratica. Quindi vanno conosciuti e fatti conoscere i ragazzi. Un press tour con giornalisti da tutta Italia, intitolato I murales della pace, con giornalisti che promuoveranno e visiteranno i Monti Dauni. Quanto è importante? Importantissimo. I Monti Dauni sono una ricchezza naturalistica, una bellezza incomiabile nel nostro territorio. La Capitanata è bellissima perché ha tutto. Allora noi dobbiamo sforzarci di fare una narrazione adeguata del nostro territorio e farla conoscere il più possibile, perché soltanto attraverso una narrazione positiva del nostro territorio potremo attarre investimenti, perché probabilmente qualche operatore turistico si accorgerà che nella provincia di Foggia ci sono località e dei borghi, dei piccoli comuni bellissimi che possono avere una valorizzazione a livello turistico davvero rilevante. Al prossimo episodio Al prossimo episodio Grazie a tutti.